E' ripartito il mercato del lavoro in Umbria, ma è un lavoro precario a trazione maschile che fa pandana un esercito di lavoratori potenziali, ovvero inattivi disponibili o attivi non disponibili a lavorare, che è ugualmente in crescita. Lo dice lo studio di Aure, l'agenzia Umbria Ricerche, confrontando i dati Istat relativi al 2021 rispetto al 2020. 6.000 unità di occupati in più, per un totale di 356.600, per un tasso di crescita dell'1,7%, superiore a quello italiano, 0,8%. Il dato è tuttavia meno sorridente se lo si raffronta con il 2019, ovvero con il pre-pandemia. 4.000 gli occupati in meno nel 2021 e, più preoccupante, 4.000 potenziali forze di lavoro in più. Quest'ultimo numero racconta di coloro che al momento non lavorano pur essendo in età e condizioni da lavoro, ma nemmeno lo cercano. Umbri che vivono in un limbo che fanno diminuire il numero di disoccupati, che infatti nel 2021 è sceso rispetto al 2019 di 8.000 unità, ma che di fatto non aumentano la forza lavoro in atto. Tra di loro ci sono i percettori di sussidi economici a vario titolo e per motivi diversi, ma anche chi genericamente non è alla ricerca attiva di un posto. Non aiuta a sbloccare la situazione e nemmeno il reddito di cittadinanza se il 29% dei percettori è attualmente inattivo, ovvero non ha ricevuto nessuna proposta di lavoro o lo ha rifiutata. Nel limbo dei lavoratori potenziali, quello che AUR definisce disoccupazione latente, stanno soprattutto le donne, che nuovamente pagano pegno. Molte di loro sono quelle che hanno rinunciato a lavorare per dedicarsi alla famiglia o che hanno perso il lavoro durante la pandemia. Il senso di scoraggiamento e la difficoltà a trovare alternative economicamente sostenibili per assolvere agli obblighi familiari hanno ancora una volta la precedenza. Tornando al mondo di chi lavora, il tasso di occupazione Umbro nell'ultimo trimestre 2021 è certamente buono, 65,3% sopra la media nazionale che si assesta al 59%, ma va considerato nel calcolo il fatto che nel frattempo è diminuita la popolazione in età lavorativa. L'Umbria vive un pesante depauperamento demografico, nell'ultimo censimento dal 2019 ad oggi ha perso 4.713 unità. Quindi, diminuendo la popolazione nel rapporto percentuale, il balzo in avanti dell'occupazione è nato dal numero di occupati in più. La conclusione di Aur è che il lavoro è finalmente ripartito, ma il riadattamento delle persone a una nuova normalità sembra essere un processo più lente e complicato. Le incertezze attuali, legate al futuro delle imprese nel quadro geopolitico internazionale, non agevolano.